Il poema cavalleresco è l'Orlando innamorato di Boiardo. Vediamo un po' se facciamo un po' una storia di come si è arrivati al poema cavalleresco. Nel senso che il poema cavalleresco è un genere letterario che nasce in questa seconda metà del Quattrocento, nelle corti, là dove c'è appunto il mecenatismo e in particolar modo vedremo nella corte di Ferrara. Ma vogliamo un po' capire da dove viene, da dove salta fuori questo nuovo genere letterario. Senz'altro salta fuori dal poema epico medievale, quindi da alcune cose che abbiamo studiato all'inizio dell'anno. Pensate alla Chanson de Roland, quando nacquero le letterature in lingua romanza, uno dei generi più fortunati era appunto il poema epico, che si ispirava a modelli classici, ma introduceva contenuti più moderni, scritto in prose assonanzate, quindi non era in versi poetici diciamo così, era destinato alla recitazione. Un esempio è la Chanson de Roland, scritto in lingua d'Oil, che tratta le imprese di Carlo Magno contro i more di Spagna. I temi caratteristici erano la guerra, la guerra santa, quindi contro appunto diciamo i musulmani, l'onore, la lealtà e il coraggio. Ecco delle immagini, alterneremo spesso le nostre slide a delle immagini per farvi capire un po' tutta la cultura, la storia che c'è di queste vicende, insomma, cavalleresche. Poi avevamo i romanzi cortesi, la cosiddetta materia bretona, anche essa, diciamo, scritta in lingua d'Oil, anche i romanzi cortesi, così come l'epica, erano scritti in lingua d'Oil. Si ispiravano però a leggende bretoni celtiche della Britannia, di Francia, Inghilterra, della Francia del Sud, appunto, scusate ho sbagliato, della Francia del Nord, perché Francia del Sud, invece ricordate la poesia provenzale, è dell'Inghilterra. Il più famoso è Tristano Isotta, ma diciamo che i romanzi cortesi più importanti sono quelli del ciclo dei Cavalieri della Tavola Rotonda, di Re Artù. In questo genere letterario, scritto in prosa, destinato alla lettura silenziosa, l'amore ha un ruolo preponderante, di conseguenza sono importanti anche i personaggi femminili. Mentre nell'epica della Chanson de Roland, dei Paladini, c'erano solamente, appunto, cavalieri maschi, nei romanzi cortesi compaiono le donne, Ginevra, tipicamente, no? Isotta, eccetera. Questa è un'illustrazione, appunto, relativa a questi romanzi cortesi di Re Artù, di Ginevra, di Lancillotto, eccetera. I romanzi cortesi erano privi di riferimenti storici e trattavano materie leggendari e fiabesche, cioè, si ispiravano molto, molto vagamente ad una storia, che è una storia ormai che affondava nella leggenda, diciamo così. Il ciclo di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, Lancillotto, Galvano, Ivano, Persval, nel romanzo domina un elemento meraviglioso, fiabesco, fantastico e avventuroso, anche attingendo le leggende celtiche pre-cristiane. Mentre l'epica medievale della Chanson de Roland era proprio tutta intrisa di ideali cristiani, il romanzo cortese era contaminato, se vogliamo, da altri elementi. Nel romanzo dominano tendenze centrifughe, i cavalieri partono a caso in cerca di avventure per provare a se stessi il loro valore, la loro forza nell'esercizio delle armi, adoperandosi nella liberazione di giovani donne in pericolo. Attenzione, tutti questi elementi confluiranno nel poema cavalleresco, che sarà una sorta, vedremo, di sintesi fra l'epica, perché dell'epica medievale resteranno i nomi dei cavalieri, e quindi appunto Carlo Magno, i suoi paladini, Orlando, eccetera. Ma dal punto di vista proprio delle tematiche, dei topoi letterari, ritroveremo esattamente queste cose, le avventure, così come c'erano le avventure nei romanzi cortesi, alla ricerca del Graal, oppure per liberare delle donne belle imprigionate, ecco, queste cose le ritroveremo tutte nei poemi a cavalleresco di Boiardo e di Ariosto. Il romanzo ha una struttura aperta, le avventure si possono susseguire fino all'infinito intrecciandosi tra di loro. Questi sono senz'altro elementi che studieremo, soprattutto poi relativamente all'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Bene, che cosa era successo però nei secoli che intercorrono fra questi testi, insomma, tipicamente medievali, e il Quattrocento? Era successo che nelle piazze si erano diffusi i cantari. Che cosa sono i cantari? Al di sotto della storia nobile della letteratura, anche il mondo medievale conosce una produzione culturale di intrattenimento, sospesa fra l'oralità e la scrittura. I cantari erano fatti soprattutto per essere declamati oralmente, persino tramandati oralmente. Siamo alle origini, diciamo così, della letteratura popolare. E quindi i giullari o dei cantori di piazza, insomma, si tramandavano a memoria questi cantari, affidati a professionisti girovaghi, cosiddetti canterini o cantimbanchi. Sono loro a girare per le piazze e i castelli d'Italia, recitando testi approntati dai loro stessi o dai loro colleghi, che recuperano suggestioni della letteratura epica e amorosa di origine francese. Le mescolano fra di loro. Quindi sono stati proprio questi, come dire, questi canterini popolari, probabilmente, a creare le premesse per la nascita del poema cavalleresco. Quindi contaminando appunto questi due generi. Cioè il filone epico, da una parte, dell'epica medievale della chanson de Roland, e il filone cavalleresco, amoroso, della materia bretone. E le condiscono con spunti più realistici, di materia plebea. Questi testi, i cantari appunto, continuano a circolare dopo l'invenzione della stampa. Però noi abbiamo poche testimonianze di questi, perché soprattutto erano tramandati oralmente. Le storie dei cantari si sono conservate anche nella tradizione orale, come dimostra il teatro dei pupi. Perfino in un film di Rossellini, no? Era evidente, c'era una scena, insomma, con questi teatri dei pupi. Non so se siete mai andati in Sicilia. Quindi le vicende di Orlando, da una parte, e dei cavalieri musulmani dall'altra. E l'Orlando è sempre vincitore in queste scene. E anche, ovviamente, il re, il re Carlo Magno, piuttosto che i sultani musulmani, sono presenti in questo teatro dei pupi. e c'è anche Angelica, effettivamente, in questo teatro, perché spesso i paladini, i cavalieri, eccetera, si scontrano per l'amore di Angelica. Come vedete qua, ci sono alcune raffigurazioni, insomma, di questo teatro dei pupi. Bene, parliamo adesso del Morgante di Pulci. Siete alla pagina C91? Spera. Cioè, Pulci era un letterato. Era un letterato della corte di Lorenzo e Magnifico. Quindi era un grande amico, anzi, di Lorenzo e Magnifico. Anche Lorenzo e Magnifico ammirava molto la letteratura popolare. Scriveva certe volte dei testi, lui stesso, di carattere popolare, come la Nencia da Barberino. Ecco, Luigi Pulci scrisse un poema che aveva molto a che vedere con i cantari. Alla lezione dei cantari, soprattutto per quanto riguarda le contaminazioni realistiche plebee, si rifà il poema Morgante Maggiore di Luigi Pulci, un po' isolato nel panorama umanistico, ma non del tutto solitario, perché, appunto, come vedremo, è un tramite importante, è un passaggio importante per capire come si arriva al poema cavalleresco. Però con tanti aspetti anche popolari, popolareggianti, insomma, in questo poema si parla di giganti, mezzi giganti, il Morgante è un gigante, Margutte è un mezzo gigante, c'è Orlando, sicuramente, che combatte con loro e poi se li fa servi, schiavi, si parla di conversioni dalla religione musulmana alla religione cristiana, però in un modo un po' popolaresco e anche ironico in certi momenti. Infatti questa è la storia di un gigante, Morgante, e di un mezzo gigante, Margutte, che credono nelle cose terrene, quindi sono molto attaccati al materiale, magari, come abbiamo detto, alla fine decidono di seguire Orlando, ma non per un empito religioso, anzi, la professione di fede di Margutte è uno dei momenti più esilaranti del poema del Morgante Maggiore, quando lui dice credo nel culatello, nel fegato o nel culatello, cioè è una roba da mangiare, insomma, ecco capite, è bellissima questa immagine di questi personaggi, dicevamo che anticipano la figura di Gargantua, 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 di Rabelais, ecco se ne parla sul vostro libro, Gargantua, perché è francese, Gargantua Pantagruel è un poema che è stato scritto, ecco Rabelais è vissuto tra il 1494 e il 1553, è stato scritto praticamente negli stessi anni più o meno dell'Orlando Furioso, pubblicato dal 1534 al 1552, ecco non costituisce un poema, ma un romanzo, dal resto quest'ultimo sembra essere la prosecuzione borghese e moderna del poema epico, il protagonista è appunto un gigante, Gargantua, che si dedica al culto esagerato del cibo del corpo, ecco perché abbiamo detto che ci sono degli evidenti legami, insomma, analogie, volevo dire, tra questo poema in francese e il morgante maggiore di Luigi Pulci, l'autore si maschera dietro al personaggio per demolire attraverso la comicità, che il reader soprattutto è cosa umana, i dogmatismi e le ipocrisie della società medievale. E' un poema molto interessante questo, in lingua francese. Ecco, noi oggi però parleremo di un poema in lingua italiana e il poema di cui parleremo è appunto L'Orlando innamorato, questa è un'edizione dell'Orlando innamorato composto da Matteo Maria Boiardo, Conte di Scandiano, era un nobile, Ocio, ricordate che abbiamo già letto comunque la poesia Ocio amoroso, Ozio amoroso, una poesia di Boiardo che era un rimatore, anche no? Ma è importante per noi perché ha scritto questo primo poema epico cavalleresco, colto e aristocratico, si rifà la chanson de Roland e recupera il personaggio di Orlando, che non è più tuttavia l'eroe puro e tutto preso dalla guerra, ma è anche un uomo che si lascia tentare dalle grazie della bella Angelica, figlia del re del Catai. A questo proposito dobbiamo assolutamente leggere, andare sul nostro libro, e leggere della contaminazione fra i cicli. Grazie a Boiardo, quindi definitivamente si contaminano i cicli, il ciclo carolingio, quello appunto di Orlando, di Carlo Magno, eccetera, è il ciclo bretone. L'amore viene assunto come sentimento principale che anima e muove all'azione i cavalieri, inducendoli alle più mirabili imprese. La passione, la passione amorosa, non è più vista come accadeva nei testi medievali in antitesi alla virtù morale militare, ma come un impulso che accende ed esalta la vitalità dell'uomo, senza diminuirne il valore. Ecco quindi l'importanza, dicevamo, dell'Orlando innamorato di Boiardo. Nel Rinascimento la fortuna delle geste dei cavalieri risalì dalle piazze alle due corti più raffinate d'Italia, quella dei medici a Firenze, abbiamo detto quindi con il morgante maggiore del Pulci, e quella degli est, gli estensi a Ferrara. In particolar modo gli estensi coltivavano una passione che era appunto la passione per queste storie cavalleresche. Quando i signori volevano presentarsi come incarnazione di quel modello di potenza, di ideale, di valori cavallereschi rappresentato nei poemi episci medievali, ecco quindi che si circondano anche di intellettuali, di poeti che cantano queste cose, per esempio la biblioteca della corte estense, leggendo il vostro libro, alla pagina C91, era ricca delle opere originarie di questa tradizione in francese e dei numerosi volgarizzamenti. Il duca Borso d'Este, avido lettore di romanzi, commissionava e cercava testi sempre nuovi, però insomma le storie a un certo punto si ripetono, sono sempre le stesse, c'è voglia di storie nuove, c'è voglia di stuzzicare un po' la curiosità dei lettori, soprattutto della corte dicevamo del Boiardo, ecco perché della corte degli estensi volevo dire, ecco perché a questo punto si situa dicevamo il Boiardo. Ferrara è davvero la capitale della poesia epica, infatti i tre maggiori poemi cavallereschi della nostra letteratura vengono concepiti alla corte degli estensi a Ferrara e sono l'Orlando innamorato della fine del Quattrocento, l'Orlando furioso della prima metà del Cinquecento e la Gerusalemme liberata della seconda metà del Cinquecento. Quindi oggi stiamo facendo un'introduzione che ci serve per capire tanta parte della letteratura che studieremo anche in quarta, perché in quarta studieremo Ariosto, in quarta studieremo Tasso, oggi studiamo solamente il Boiardo. Tutti quanti questi poemi nacquero alla corte degli estensi, questi letterati insomma addirittura Boiardo e Ariosto sono proprio emiliani, sono proprio di questa regione, mentre il Tasso insomma era nato se non ero in Campania, però poi si era trasferito anche lui alla corte di Ferrara, Tasso era un po' più un girovago, mentre gli altri due rimasero sempre piuttosto legati alla corte degli estensi dei Ferrara. Questa è una moneta che ritrae proprio il poeta di cui parleremo oggi, che è Matteo Maria Boiardo, è morto nel 1494 a 60 anni, già lo conosciamo, ricordate questa immagine insomma che abbiamo utilizzato anche per spiegare quel suo sonetto, ecco che già ci aveva fatto capire come lui era perfettamente in sintonia organico alla corte e agli ideali umanistici anche dell'amore spensierato se vogliamo. Boiardo si rivolse all'epopea cavalleresca con maninconica nostalgia di chi scontento del suo tempo cerca di far rivivere i fantasmi del passato, sono ormai gli ultimi anni di vita del Boiardo quando lui scrive appunto questo Orlando innamorato. È molto teso e amareggiato perché sta scendendo in Italia Carlo VIII re di Francia per scombussolare un po' quelli che sono gli equilibri che invece si erano mantenuti insomma in Italia fino alla pace grazie alla pace di Lodi fino alla morte di Lorenzo Magnifico. Con la morte di Lorenzo Magnifico le cose in Italia non vanno più tanto bene e lui è un po' amareggiato. Alla corte di Ferrara erano molto letti i romanzi del ciclo Bretone e i cantari dell'epica Carolingia come abbiamo spiegato. Boiardo unifica questi due filoni con mezze e tecniche però ancora primitivi perché il capolavoro poi sarà quello dell'Ariosto a questo proposito. Dobbiamo immaginarci che cosa è avvenuto nel 1483. Beh, è avvenuto questo semplicemente Boiardo invita alla sua casa lui era conte conte di Scandiano capitano di Reggio Emilia quindi le sue case erano dei palazzi invita la corte Isabella d'Este e tutti gli altri della corte estense per ascoltare le ottave di questo poema che lui sta elaborando e tutti lo applaudono e tutti sono contenti e appassionati per questa lettura. Composti verosimilmente tra 1476 e 1482 i primi due libri dell'innamorato uscirono nell'estate del 1482 da una tipografia di Reggio di Reggio Emilia o di Modena ma dell'edizione non resta neppure una copia completata dal terzo libro interrotto al canto nono come vedremo oggi l'opera uscì dopo la morte dell'autore a Scandiano nel 1495 per il tipografo Pellegrino e Pasquali quindi postuma esce postuma un anno dopo la morte ecco qui vedete il frontespizio appunto dell'Orlando innamorato in realtà lui ha pensato ad un titolo diverso per quest'opera il titolo originario era l'innamoramento di Orlando l'innamorato è un'opera encomiastica cioè accanto alle storie diciamo dei cavalieri c'è una storia che si sviluppa che è quella dei fondatori della casa estense Boiardo contrapone alla pubblicistica contro la famiglia degli estensi che sosteneva la discendenza di signori Ferrara dalla stirpa dei traditori maganzesi discendenti cioè di Gano di Maganza i traditori di Orlando la tesi dell'origine da Ettore Troiano identificando il capostipite del ceppo moderno nel pagano Ruggero redento alla cristianità per amore di Bradamante sorella di Ranaldo il quale proprio per mano degli intrighi orditi del Gano di Maganza avrebbe dovuto trovare la morte anzitempo nel finale del poema ecco quindi ricapitolando dove sta il fine encomiastico sta in questo che a un certo punto della storia si uniscono un cavaliere pagano che si chiama Ruggero e Bradamante che è invece una cavaliere cristiana una mazzone diciamo cristiana e danno origine alla stirpe moderna degli estensi e quindi non solo gli estensi non discendono dal Gano di Maganza dal traditore insomma anzi il Gano di Maganza vuole far fuori Ruggero avete capito sapete cos'è un fine encomiastico cioè fare un'opera con la quale elogiare anche chi è il committente il signore in questo caso i signori della corte appunto di Ferrara degli estensi il motivo politico però è solo una componente del poema e va considerato come una sovrapposizione per varie ragioni inevitabile a una macchina romanzesca molto più complessa quindi questa storia dicevamo del fine encomiastico quindi la componente politica è solo una parte dell'Orlando innamorato perché insomma c'è tutta una storia che si dipana è soprattutto una storia di amori infatti l'azione dell'innamorato si dipana attraverso i 69 canti sembrava fossero 49 non mi ricordo ho letto 49 da una parte non vorrei che ci fosse un errore comunque praticamente sono tre libri ognuno di questi libri contiene decine di di canti no? l'unico che contiene solamente nove canti è il terzo libro perché è stato interrotto prematuramente dalla morte dell'autore altrimenti avrebbe avuto più canti anche il terzo libro ebbene questi diciamo questi canti queste decine decine di canti sfruttano appieno le possibilità offerte dalla tecnica tradizionale dell'entrallacement dell'intreccio è una parola francese dobbiamo mantenerla così in francese e ne riparleremo l'anno prossimo quando leggeremo l'orlando furioso l'intreccio l'antrallacement quindi le storie che si che diventano come una sorta di rete che si intrecciano appunto fra di loro la trama tuttavia si presenta compatta e non esclude un'ipotesi di lettura unitaria quindi malgrado tutte queste storie un po' secondarie che si trovano questo intreccio abbastanza complicato possiamo notare una certa unità nella storia adesso ne parleremo perché sintetizzeremo la trama dicevamo che l'orlando innamorato è rimasto incompiuto per la morte dell'autore presenta una versificazione un pochettino rozza rispetto a quella invece lineare classica toscana se vogliamo di Ludovico Ariosto il quale scriverà l'orlando furioso toscanizzando diciamo il dialetto il volgare insomma che invece come abbiamo già detto anche per il sonetto ocio amoroso è abbastanza un po' troppo emiliano ecco nel cinquecento ristabilitosi l'uso del fiorentino letterario Berni che è un altro poeta scrittore riscrisse il poema dell'orlando innamorato in buona lingua perché già nel cinquecento la lingua del boiardo risultava un pochettino troppo rozza quali sono le novità dell'innamorato boiardo introduce e presenta per la prima volta orlando che era il paladino che nella chanson de roland combatteva solamente per la fede per gli ideali per i valori contro gli infedeli beh lo trasforma in un cavaliere innamorato cosa che invece prima c'era solamente nel ciclo bretone l'ancillotto si era innamorato di ginevra no tristano di isotta eccetera galafrone re di cataglio quindi del catai regioni insomma remote dell'oriente per catturare i due cugini campioni ornaldo e rinaldo che però nel poema del boiardo viene chiamato ranaldo invece di rinaldo lo ritroveremo come il furioso con il nome di rinaldo manda a parigi i suoi due figli una è angelica bellissima ed esperta nelle arti magiche e l'altro suo figlio è argalia guerriero dalle armi fatate quindi praticamente galafrone tra virgolette è dalla parte dei musulmani diciamo così no è per far vincere i musulmani e per sconfiggere i carolingi manda questi suoi due figli i due hanno anche un anello che all'occorrenza li rende invisibili come vedete ci sono tutti questi elementi tipici insomma delle storie avventurose anche un anello che rende invisibili ci fa venire in mente no la compagnia dell'anello di di Tolkien ebbene dobbiamo dire avevamo già anticipato che purtroppo trascorsi appena appena dieci anni dalla morte di Boiardo diciamo che l'Ariosto incomincia a scrivere a comporre l'Orlando Furioso quando l'Ariosto scrive l'Orlando Furioso l'Orlando innamorato viene messo inevitabilmente da parte come opera minore oscurato dalla fortuna di Ariosto passa la tradizione come un semplice antefatto al Furioso perché l'Ariosto incomincia la storia da dove l'aveva interrotta Boiardo infatti molti lettori e intellettuali e poeti dell'epoca erano rimasti amareggiati dal troncamento dalla fine un po' interrotta a metà insomma il poema di Boiardo perché lui era morto in sostanza e quindi cercarono di continuarlo di riprendere in mano la storia da quel momento in poi ovviamente quando Ariosto scrisse l'Orlando Furioso diciamo che si impose la sua di continuazione anche se i due poemi sono molto diversi tra loro tradizionalmente sono diventati l'uno dipendente dall'altro ecco la fortuna dell'Orlando innamorato oppure potremmo dire anche la sfortuna nel senso che l'amore che gli altri poeti li tributarono quando fu pubblicato nel 95 l'Orlando innamorato un anno dopo la morte di Boiardo fu tanto carico di sollecitudine a portargli aiuto quindi a renderlo famoso insomma come creatura inadatta a vivere con le sue forze che finì per farlo scomparire dalla circolazione insomma siccome era troncato a metà siccome poi dopo soprattutto Lariosto ne fece una continuazione molto molto più celebrata famosa eccetera è chiaro che poi l'Orlando innamorato fu messo un pochettino da parte la trama dell'Orlando innamorato come dice lui stesso in una sorta di traduzione è il libro primo di Orlando innamorato nel quale si contiene le diverse avventure e la cagione di esso innamoramento tradutto dalla verace cronaca di Turpino arcivescovo remense di Renz per il magnifico conte Matteo Maria Boiardo conte d'Escandiano allo illustrissimo signora Ercule duca de Ferrara ecco qui abbiamo Orlando a cavallo del drago questa è la prima ottava del poema che poi se volete per curiosità potete ritrovare nel vostro libro alla pagina C94 oppure potete sentire la spiegazione che ho fatto l'anno scorso appunto di come comincia l'Orlando innamorato quindi signore cavalier che vado nati signori della corte di Ferrara per odir cose dilettose nove state attenti e quieti ed ascoltati e ascoltate la bella storia che il mio canto muove e vedrete i gesti smisurati l'alta fatica e le mirabili prove che fece Franco Orlando per amore nel tempo del Carlo imperatore ecco forse non vi ho detto ve lo dico adesso guardando questa ottava che i poemi cavallereschi sono scritti in libri suddivisi in canti e i canti sono fatti di ottave le ottave erano il metro dei cantari cioè è un metro nato proprio nelle piazze diciamo così ma l'aveva già utilizzato anche il boccaccio come vedete le ottave sono costituite da appunto otto versi in decasillabi con rime alternate le prime sei a b a b a b a t ove a t ove a t ove la settima l'ottava invece sono rima baciata amore imperatore no? quindi questo è uno schema che si ripete e si ripeterà ovviamente per tutti quanti i poemi cavallereschi bene allora il primo libro dell'Orlando innamorato narra di come Angelica giunga a Parigi con il fratello Argalia lo scopo dicevamo di distrarre i paladini cristiani e soprattutto Ornaldo e Ranaldo mentre si sta svolgendo un torneo tra cavalieri cristiani e saraceni Costei propone a nome del fratello una sfida a tutti i cavalieri chiunque batterà Argalia l'avrà in premio avrà in premio Angelica mentre i cavalieri sconfitti da fratello diventeranno suoi prigionieri ricordate che fratello però era dotato anche di arti magiche potevano persino scomparire utilizzando un certo anello quindi ve lo dico tanto comunque nessuno riuscirà a sconfiggere Argalia e intanto tutti perderanno solamente tempo questa è un'illustrazione un'immagine appunto di Angelica che giunge alla corte di Carlo Magno e fa questa proposta però che cosa succede? succede che nel corso di questo duello Argalia viene ucciso viene ucciso da Ferraguto che poi diventerà Ferraú nell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto a questo punto Angelica deve scappare perché aveva promesso che si sarebbe data al cavaliere vincitore di questo duello di questa sfida e quindi rischiava di andare da Ferraú allora comincia a scappare Angelica che fugge lo ritroveremo nell'Orlando furioso è un topos che ritornerà parecchio ritornerà voglio dire nel furioso infatti svariati cavalieri affascinati dall'angelica bellezza con la minuscola di Angelica con la maiuscola partirono al suo inseguimento con la fuga di Angelica hanno iniziato tutta una serie di peripezie e avventure anche piuttosto complicate nel corso di queste vicissitudini Bradamante sorella di Ranaldo e Ruggero si incontrano e si innamorano dalla loro unione nascerà la casa d'Este come vi ho detto questa è la parte encomiastica diciamo così del poema nel libro secondo in Francia intanto i mori di Agramante minacciano Parigi Agramante non può condurre a termine l'impresa senza l'aiuto di Ruggero che abbiamo detto è un cavaliere musulmano ma il mago Atlante tiene prigioniero Ruggero per proteggerlo da una morte precoce in battaglia il mago Atlante è stato il come dire ha curato ha levato insomma a Ruggero è molto legato a Ruggero e non vuole che lui muoia e sa che se lui incontrerà una guerriera cristiana Bradamante si sposerà con lei poi sarà ucciso morirà in breve tempo quindi vuole evitare questo ditemi ditemi cosa volete chiedere riguardo sento sentite ora il ladro Brunelle che diventa Brunello nell'Orlando Furioso venuto in possesso del magico anello di Angelica quel famoso anello vi ricordate che rende invisibili riesce a liberarlo e Ruggero può unirsi all'esercito di Agramante Angelica che è sempre in cerca di Ranaldo torna in occidente con Orlando Ranaldo e Angelica giungono di nuovo nelle Ardenne bevono le fonti magiche ma scambiandosi le parti c'era una fontana tu bevendo anzi scusate c'erano due fontane la fontana dell'amore e la fontana dell'odio e tu bevendo le acque della fontana dell'amore ti innamoravi della prima persona che incontravi e bevendo le acque della fontana dell'odio provavi odio e disprezzo per la prima persona che incontravi tipicamente i due bevono sempre l'uno nella fontana e l'uno nell'altra i due sarebbero Angelica e il cavaliere di turno Ranaldo ora è innamorato di Angelica che invece lo fugge perché prima dice Angelica in cerca di Ranaldo perché nel primo libro Angelica aveva bevuto della fontana dell'amore adesso le parti si invertono e Ranaldo che beve la fontana dell'amore si innamora di Angelica e Angelica invece beve la fontana dell'odio lo sfugge viene a contesa con Orlando Carlo li separa ovviamente Ranaldo viene a contesa con Orlando i due cugini combattono lo stesso schieramento ma quando si tratta di amore sono separati fra di loro e combattono fra di loro perché entrambi vorrebbero appunto Angelica Carlo Carlo Magno li separa e promette la fanciulla a chi dei due combatterà più valorosamente i saraceni affida Angelica al duca Namo di Baviera attenzione questa cosa è importante perché la ritroveremo perché da qui si partirà nell'Orlando furioso arriviamo al nostro libro terzo cioè al brano che stiamo per leggere il poema si interrompe dopo che Fior d'Espina figlia del re Marsilio si è innamorata di Bradamante pensa che sia un guerriero pensa che sia un uomo un maschio allora lei si innamora di questo cavaliere senza sapere che invece è una donna perché è Bradamante è una donna che combatte all'armatura ma è una donna Fior d'Espina dona un cavallo a Bradamante ma la cosa strana è che Bradamante che si accorge di essere amata da una donna non disinganna Fior d'Espina come vedremo adesso quindi leggendo alcune ottave l'ultima ottava evidenzia la mutata situazione politico militare del fine secolo in cui Boiardo è direttamente coinvolto in quanto capitano di Reggio lui no a questo punto vedete che riusciamo a fare anche il testo nell'ultima ottava emerge questo ormai stanno scendendo i francesi in Italia e lui deve difendere e proteggere la città di Reggio Emilia non può dedicarsi alla letteratura al piacere della letteratura sarebbe uno sconsiderato se facesse questo capite e quindi deve interrompere e fa un'ottava sbrigativamente per dire vabbè sentite adesso io interrompo la appunto la scrittura dell'Orlando innamorato ma appena mi sarà possibile se mi sarà possibile riprenderò a scrivere niente non gli è stato possibile e no perché è morto e quindi nell'autunno infatti nel 94 l'Italia era invasa dall'esercito del re di Francia Carlo VIII Boiardo promette di riprendere la stesura del poema in seguito se gli sarà possibile ma non potrà farlo poiché morirà il 19 dicembre di quello stesso anno ecco e andiamo pertanto alle pagine alla pagina 98 dove leggiamo le 26 ottave o almeno alcune insomma non so adesso vediamo possiamo iniziare a leggere oggi e poi continuare la volta prossima del terzo scusate del nono canto del terzo libro dell'Orlando innamorato pertanto come abbiamo già spiegato il terzo libro ha nove canti questo è il nono quindi è l'ultimo queste 26 ottave sono le ultime del poema che cosa dice Boiardo all'inizio di questo brano poi che il mio canto tanto a voi diletta dal momento che il mio canto vi piace tanto che ben ne vedo nella faccia il segno che riesco a riconoscere a vedere dalle vostre facce che siete affascinati da questa lettura io votrar for la citerà più eletta tirerò fuori la chitarra la citerà tirerò fuori la chitarra giusto più eletta più scelta la migliore insomma e le più argute corde che abbia in scrigno è un po' anche una metafora però perché non si riferisce solo alla musica ma intende dire le corde della sua poesia or vieni amore e qua meco ti assetta siediti qua amore vicino a noi e se io ben son di tal richiesta indigno perché emirti al mio capo non si avvoltano degni nel son costor che intorno ascoltano quindi invoca amore e dice se non sono degno di essere incoronato poeta sono degne però le persone che stanno ascoltando quindi voi la corte degli estensi che sono dicevamo gli spettatori insomma come abbiamo detto infatti è un poema fatto per essere recitato nei palazzi nelle case insomma dell'autore Matteo Maria Boiardo che era un conte davanti alla corte di Isabella d'Este che sono persone degne invece almeno se non son degno io siete degni voi no? come in anti l'aurora al primo albore splendono stelle chiare matutine tal questa corte luce in tanto onore dei cavalieri e dame peregrine che tu puoi ben dal cer scendere amore tra queste genti angeliche e divine se tu vi entra a costoro io te so dire che starai in osco e non vorrai partire come prima dell'aurora al primo albore prima ancora che sorga il sole insomma splendono le stelle chiare mattutine l'astro di venere e le altre stelle che si possono intravedere nel cielo prima che sorga il sole così a questo modo questa corte luce riluce splende in tanto onore di cavalieri e le dame peregrine le dame sarebbero appunto queste queste persone degne dicevamo le donne di corte insomma che tu puoi ben dal cer scendere che quindi tu puoi ben scendere amore tu puoi scendere senz'altro dal cielo in mezzo a queste persone così angeliche divine se tu vieni tra questi tra costoro io ti so dire che starai con noi nosco è un latinismo che vuol dire nobiscum è un latinismo che vuol dire con noi e non vorrai partire qui troverai un altro paradiso ecco qui l'esaltazione delle corti appunto quattrocentesche umanistiche l'esaltazione della corte estense davvero un altro paradiso così ne parla insomma il boiardo or vieni adunque espirami di gracia il tuo dolce diletto il dolce riso si che cantando a questi satisfaccia de fior de spina che mirando in viso abbradamante parche se disfaccia e del disio se strugga poco a poco come rugiata al sole o cera al foco insomma sempre si rivolge ad amore dice vieni ispirami di grazia il tuo dolce diletto il piacere che giunge appunto da amore è il dolce riso però perché è divertente comunque è divertente anche il poema cavalleresco diletto vuol dire piacere il tuo ispira amore il piacere che deriva da te e tu amore sai bene come far provare piacere no sì che cantando in maniera tale che io cantando queste ottave questi versi a questi satisfaccia quindi possa soddisfare la curiosità di questi ascoltatori no riguardo la storia di Fior d'Espina alla fine del canto precedente infatti Fior d'Espina che era figlia del re Marsilio vede bradamante che è addormentata presso un albero e si innamora di bradamante perché pensa che sia un uomo un cavaliere e del disio si estrugga poco a poco vuol dire che Fior d'Espina si sta consumando d'amore di passione come rugiada al sole o cera al fuoco similitudini che stanno a indicare come lei si consuma d'amore esattamente come si consuma la rugiada al sole quando una volta che sorge il sole viene si asciuga insomma la rugiada o la cera che viene sciolta dal fuoco cosa possiamo notare su queste tre prime ottave sono semplicemente l'esordio di un canto eppure davvero è talmente solenne questo esordio che ci sembra quasi un proemio in cui ribadisce quello che aveva fatto Boiardo nel proemio a tutta quanta l'opera a tutto quanto il poema e non poteva da tal vista levarsi quanto più mira demirar più brama siccome farfallinsi che sonarsi non si sanno spiccare mai dalla fiamma quindi lei non poteva fior di spina non poteva staccare gli occhi da Bradamante perché è innamorata appassionatissima e quanto più guardava Bradamante tanto più desiderava ancora di più di guardare esattamente come le farfalline che non si sanno allontanare dal fuoco fino a quando non sono bruciate erano i cacciatori intorno sparsi ecco abbiamo detto infatti che Fior de Spina è figlia di un re e c'erano intorno a lei dei cacciatori per una battuta di caccia e qual suo cane e qual suo falcon chiama con corni e cridi menando tempesta onde a rumor la fia de Amon si desta allora non era da sola Fior de Spina era circondata appunto da tutti questi cavalieri i cani da caccia i falconi che servivano tutti quanti per cacciare degli animali no? e poi c'erano i corni e c'erano urla cridi gridi no? e tutte queste cose ovviamente fecero svegliare Bradamante perché mi hanno detto che alla fine del canto precedente Bradamante si era addormentata chiaro con questo chiasso Bradamante si sveglia Bradamante è appunto figlia di Amone siccome gli occhi aperse in continente una luce ne uscite uno splendore che abbagliò Fior de Spina primamente poi per la vista li passò nel cuore attenzione questo che cosa ci fa venire in mente questo innamoramento che avviene attraverso gli occhi gli occhi di Bradamante che si che si aprono che cosa ci fa venire in mente ragazzi ci fa venire in mente la poesia d'amore del dolce stinnovo per esempio no? vuoi che per gli occhi mi passaste il cuore e altre poesie appunto che ci hanno mostrato questo topos letterario come una persona si innamora gli occhi sono lo strumento di amore che giunge poi al cuore al cuore della persona innamorata e quindi la fa proprio impazzire l'amore se vogliamo no? e benne dimostrò segno evidente tingendo la sua faccia in quel colore che fa la rosa allorché aprirse vuole nella bell'alba allo apparir del sole e quindi praticamente un altro topos ovviamente quando una persona si innamora la prima cosa che fa è la sua guancia si imporpora di rosso perché insomma ha proprio un sentimento talmente forte che non riesce a trattenere si esprime si vede anche all'esterno questo innamoramento no? e quindi diventano rosse le guance no? la sua fa ma so qui appunto Fior Despina è una ragazza insomma però anche gli uomini possono arrossire d'amore già Bradamante si era rilevata si era svegliata si era alzata e perché agli atti all'abito comprese quest'altra esser grandama e pregiata la salutò con modo assai cortese attenzione questa è una è una cosa importantissima mentre Fior Despina non sa che lei è una donna Bradamante si accorge bene che Fior Despina è una donna perché Bradamante è vestita da uomo mentre Fior Despina è vestita da donna Bradamante una persona una donna gentile per via di svariate peripezie era giunta lì non sapeva neanche dove fosse si può dire ma riconosce che doveva essere una persona gentile infatti era una figlia di un re Fior Despina e dove la Iumenta via legata quando da prima sul fiume discese ne venne che trovarvela vi crede ma non la trova e Ovesia non vede c'è un problema però perché Bradamante aveva legato il suo cavallo insomma e quindi pensava di recuperare il proprio cavallo si reca lì dove era smontata da cavallo arriva al fiume e aveva legato la sua giumenta crede di ritrovarla ma non la trova e non vede dove sia e Ovesia non vede perché a se stessa aveva tratta la briglia e nel bosco più folto errando andava or tal sconforto la dama si piglia che quasi gli occhi a lacrime bagnava a questo punto quando vede che non c'è il suo cavallo è indispettita e molto amareggiata era riuscita a liberare le briglie questo cavallo insomma nel bosco più folto errando andava vuol dire che il cavallo ormai era scappato via or tal sconforto la dama si piglia è chiaro che ne giunge se ne ricava un grande disagio e sconforto in Bradamante che quasi gli occhi a lacrime bagnava quasi si metteva a piangere Bradamante ma amor che ogni intelletto resviglia a Fior d'Espina subito mostrava con qual facilitata di leggero se trovi sola con quel cavaliero ma l'amore fa sì che Fior d'Espina si accorga di questo e quindi fa in modo che lei si trovi sola con quel cavaliere che in realtà come abbiamo come abbiamo spiegato in realtà è una donna come facilmente fortunatamente si ritrovi da sola quindi Fior d'Espina con quel cavaliere ormai privo del cavallo dunque impossibilitato ad andarsene e quindi in un certo senso indotto a rimanere con lei e quindi Fior d'Espina potrebbe forse coronare il suo sogno d'amore adesso la campanella è suonata vi piacerebbe